Lo chef stellato Gianfranco Vissani in città per partecipare nei giorni scorsi ad un'iniziativa sulla pasta del Munda. Purtroppo, ammette lo chef, i prodotti non sono più quelli di una volta, i segreti che i contadini conoscevano non ci sono più e aumentano le malattie. Perché i prodotti non sono più come una volta che venivano zappati con la terra e veniva messa il mazzo di rose rosse sopra gli filari perché vedeva quest'uva, se per caso si vedeva che la rosa perdeva, il filaro andava bene. Oggi non si fa questo discorso, oggi devono far quadrare le aziende. L'Aquila è una città che va aiutata, dice Vissani, Dolce Gabbana, Hermes, dovrebbero mettere tutti il proprio negozio qui. Bisogna che devo chiamare Patrizio Bertelli, deve capire, deve aiutare l'Aquila, metta il suo negozio. Dolce Gabbana, mettono il suo negozio, li conosco tutti quanti, Hermes, mette il suo negozio. Tutte una serie di boutique che fanno lustro e io verrò a mettere il mio locale. E poi, essendo uno chef stellato, non poteva che non pensare a un piatto dedicato all'Aquila. Penso che una pizzella calda, con il sanguinaccio che si faceva una volta, con sangue e cioccolato, sarebbe il massimo. Questazed modalità, con il sanguinaccio che si faceva un